Oh, ma che fai? Così? Alla voce Secondo me ti piace più il seno della mamma E si, aiii Non ti piace, ah ci sta Ma ti piace? Ma ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Ma pure lo stesso, lo stesso latte Eh, pure lo stesso latte non ti piace, però il seno piace assai Ma non hai capito perché se hai bisogno di questa fissazione E la fissazione è natura, non è la fissazione E se la mamma non teni i dede, come fa? Eh beh, se la mamma non teni i dede, come fa? Oh no Ma è difficile però che la mamma non teni i dede, è proprio difficile Generalmente hanno sempre Sì Oh E non vedi il taglietto? Mi ricordo quando ero piccolo, figurata Quando succhiavo io Eh Per te Quando ero grande Quando ero grande Mi ha detto me l'ha tolto E lo sai come ha messo Mi ha messo il caffè sulla 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 detta Eh? Il caffè Lo ripetavo Il sapore del caffè in bocca Lo sputavo E la figlia come lo fai a sputare? Si Ma già ero grande, secondo me ero quasi male Che così si faceva una cosa, no? Per togliere, per quello che non voleva smettere un bambino Lo smetteva Non il caffè proprio, cioè che non aveva rimanere sotto la 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 macchinetta Il fa schifo Il fa schifo spe только